Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato carissimi fedeli vi do gli avvisi della settimana oggi sabato 17 giugno alle ore 21 e 30 l'adorazione eucaristica domani domenica 18 la santa messa alle ore 10 e 30 negli altri giorni della settimana la santa messa verrà celebrata alle ore 18 tutti gli incontri di preghiera serali inizieranno alle ore 21 e 30 e saranno i seguenti domenica 18 santo rosario dalla lombardia mercoledì 21 santo rosario dal piemonte giovedì 22 preghiere di guarigione e liberazione dalla cappella dei sacri cuori venerdì 23 santo rosario dalla toscana sabato 24 adorazione eucaristica dalla cappella dei sacri cuori sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato buona domenica a tutti